Per valorizzare e rilanciare l'attrattività ricettiva di Pesaro, crediamo che sia importante rendere alcuni luoghi ancora più accessibili. Per questo, insieme al collega consigliere comunale Daniele Malandrina, abbiamo presentato un'interpellanza in cui chiediamo all'amministrazione di impegnarsi per una vera rete capillare di navette che possano portare i turisti dalla zona del mare, dalla Pale Pomodoro per intenderci, fino ai quartieri più periferici, ma che sono quelli dei nostri borghi, delle colline dei Castelli, per esempio, di Monte Ciccardo e della zona del Parco del San Bartolo. Crediamo che così facendo si potranno valorizzare molto di più i luoghi e le bellezze del nostro territorio, che sono bellezze culturali, che sono bellezze paesaggistiche. Ne abbiamo parlato anche con molti albergatori che sarebbero contenti di poter anche contribuire organizzativamente alla realizzazione di questo progetto, così come ne sono molto contenti degli abitanti e i vari esercenti, per esempio dei borghi, che vedrebbero valorizzati i loro luoghi e di tutto il mondo associativo che crea eventi e cultura in questi luoghi e che vedrebbe una maggiore partecipazione anche dei turisti che vengono, per esempio, nel periodo estivo. Chiediamo all'amministrazione di fare in fretta nell'aumentare questa rete di trasporti pubblici che possa in qualche modo rendere ancora più viva e ancora più capillare la presenza turistica e ricettiva su Pesaro.